Stiamo parlando di lavoro e Covid, perché pare che le donne dal periodo pandemico per quanto riguarda il lavoro siano uscite un po' massacrate. È vero, ma questo è storico, perché la donna di per sé ha un lavoro sempre più precario rispetto all'uomo, per cui è penalizzata anche a livello contrattuale, pochi diritti e molti doveri, senza dimenticarci che la donna ha anche un dovere quasi di cura nei confronti del nucleo familiare o della rete cosiddetta familiare o amicale, per cui il Covid ha assolutamente messo sotto cenere, perché non si vede, quello che è il disagio per cui tante donne sono state costrette anche ad abbandonarlo il lavoro, che era già di per sé precario e poi soprattutto sono lavori o a partita IVA o sul privato o in strutture cosiddette fattiscenti tipo cooperative, che però magari non hanno uno statuto cosiddetto istituzionalizzato, per cui è molto difficile per la donna questo periodo, che si è assunta anche responsabilità diverse nella gestione della famiglia intesa a 360 gradi, che non significa marito e figli, significa reti sociali di altro genere. Così come lei mi sembra anche un pochino interessata e un pochino addentro all'argomento, ci dà una sua personalissima idea di come si possa uscire da questa situazione? Se ne esce con una idea politica del lavoro, diversa da quella che è attualmente. Noi abbiamo ancora una idea politica, perché la gestione del lavoro è ancora spezzettata e adesso il Covid l'ha messo solo in evidenza. E' come dire che la sanità va male? La sanità non va male per colpa del Covid, la sanità va male perché è la gestione che va male, già in precedenza. Per quanto riguarda il lavoro abbiamo bisogno di rivisitare le politiche del lavoro, le politiche attive. Abbiamo molta gente ormai che con il reddito di cittadinanza purtroppo, ahimè, ha evitato anche di lavorare. Notate quanti uomini prendono il reddito e poche donne? Fatevi questa domanda. E' anche un problema culturale, di onestà intellettuale. Molte donne non si azzardano a chiedere il reddito di cittadinanza, di straforo. Le politiche del lavoro vanno rivisitate. A livello politico ci stanno provando, a livello sindacale ci stanno provando, ma la società è cambiata. E quindi aprire un tavolo di contrattazione sociale come aperto è importante, ma non a parole, coi fatti. Pochi ma fatti. Grazie.